Benvenuti criptomani e criptomane di tutta Italia. Oggi vi andiamo a parlare di 6 altcoin che dal mio punto di vista potrebbero performare in maniera sorprendente all'interno del 2023. Ovviamente almeno che non si mettano di mezzo altri eventi macroeconomici e se effettivamente ci sarà una ripartenza dei mercati finanziari, soprattutto del mercato cripto, secondo me queste 6 altcoin potrebbero letteralmente esplodere. Per cui andiamo a vedere il tutto all'interno di questo video. Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Bit in questo nuovo video. Prima di andare a parlare di quelle che sono le top 6 altcoin dal mio punto di vista per questo 2023 vorrei mostrarvi quello che è l'attuale valore delle prime 10 coin relativa a CoinMarketCap così in modo per chi andrà a vedere questo video in futuro potrà fare una comparazione con quelli che saranno i prezzi in futuro. Per cui vediamo un bitcoin a 19.232 dollari, Ethereum 1.313 dollari, BNB 270 dollari, XRP 0.46 dollari, Cardano 0.35, Solana 28 dollari e Dogecoin 6 centesimi. Questa è l'attuale classifica top 10 su CoinMarketCap. Ora, The First Ethereum, 1.313 dollari in questo momento, quindi iniziamo con calma, ok? Però perché Ethereum? Perché naturalmente abbiamo visto come sostanzialmente c'è stato il merge, di quindi passaggio Ethereum 2.0 e io sono fortemente bullish su Ethereum per quanto riguarda la prossima Burana. Se andiamo a vedere effettivamente quello che è il grafico sul settimanale, possiamo vedere come in questo momento l'RSI si ha 38, quindi siamo scarichi, addirittura abbiamo preso un 26 in data 20 di giugno, quando Ethereum addirittura andò sotto i 1000 dollari. Potrebbe essere proprio i 1000 dollari la soglia di bottom per Ethereum? Probabilmente sì, perché comunque abbiamo fatto su un settimanale un livello di 26. Ovviamente si potrebbe andare ancora al di sotto, però già questo ci fa capire come aver avuto un IPER venduto sul settimanale su Ethereum potrebbe indicarci che questo è stato il bottom. Ora abbiamo questo trend discendente in lungo periodo, sarà capace Ethereum di romperlo nuovamente a rialzo? Se effettivamente andrà a romperlo, potrebbe iniziare un nuovo ciclo rialzista per quanto riguarda Ethereum. La stessa cosa naturalmente lo vediamo anche sul giornaliero, però in questo momento RSI a 48. Quindi è probabile che cosa potrebbe avvenire? Potremmo nuovamente avere che Ethereum nuovamente è sui 1000 dollari, però in ogni caso secondo me il prezzo di Ethereum a 1313 indica che già Ethereum è stato molto ma molto vicino a quello che è il suo bottom. Seconda coin secondo me è più interessante è Uniswap capitalizzazione di mercato di 4,6 miliardi, valore nominale di 6,12. Perché Uni? Perché sostanzialmente è il principale DEX che gira su rete Ethereum, abbiamo avuto addirittura una volta mai a 44 dollari, e secondo me Uni quasi certamente, non dico che tornerà ai massimi, però sicuramente avrà un'adozione in futuro. Anche in questo caso abbiamo fatto un iper comprato, scusate, un iper venduto sui 30, quindi anche in questo caso la domanda che mi pongo è Uniswap ha toccato il fondo quando ha raggiunto i 3 dollari? Quindi potrebbe essere. Vi ricordo che nel momento in cui Uni registrò i 3 dollari fu un meno 90%. Lo vediamo chiaramente anche sul giornaliero come possa avere tanta strada Uni. Terza coin, secondo me al momento la più interessante dal punto di vista del RSI e Cardano, prezzo di 0,35 centesimi in questo momento, market cap di 12 miliardi. E se andiamo a vedere effettivamente il settimanale, siamo quasi rasenti ai 30. Siamo molto vicini, in questo momento siamo a 33. Vi ricordo il bottom arrivò in una prima data al 16 di maggio, ma Cardano è l'unica coin che non ha mai avuto ripresa, quindi secondo me il prezzo è fortemente interessante per quanto riguarda Ada Cardano. E secondo me in questo momento è la coin più interessante tra quelle esistenti, perché siamo almeno 90% di volta mai e siamo vicinissimi come RSI sui 30, per cui secondo me al momento è la coin da più attenzionare, anche perché è uno storico, pensate i 7 anni, e finora non ha mai tradito. Quarta coin, Shiba Inu. Come voi sapete naturalmente io sono fortemente bullish su Shiba. Prezzo in questo momento di 1000, capitalizzazione di mercato di 5,5 miliardi. Andiamo a vedere subito il prezzo, perché a livello di RSI anche qui sul giornaliero siamo a livello di 37, quindi anche qua abbiamo quasi toccato il fondo dal mio punto di vista. Stessa domanda che mi pongo anche qui, il livello psicologico dei 1000 sarà il bottom per Shiba Inu? Secondo me probabilmente sì, perché naturalmente se Shiba tornasse ai massimi sarebbe un 8,8 volte, quindi direi fortemente interessante, quindi attenzione Shiba perché potrebbe avere già fatto il bottom in data 18 luglio, quando addirittura raggiunse un livello di 754 con livello di RSI sui 30. Ora andiamo a vedere le ultime due. Penultima, Sandbox, 1,1 miliardi di capitalizzazione, prezzo nominale di 0.74 dollari, e anche qui secondo me è fortemente interessante Sandbox, non è uno storico perché esiste sostanzialmente a circa due anni, però Sand secondo me è un ecosistema che non può assolutamente morire, perché è la principale coin per quanto riguarda il metaverso. Quindi questo trend dovrà continuare e secondo me sia Sandbox che Decentraland dovranno trainare il tutto. Andiamo a vedere quello che si volta mai, addirittura quasi 9 dollari, quindi qualcosa di pazzesco. Al momento siamo al di sotto, pensate, del 92% dai massimi. E lo vediamo chiaramente anche sul settimanale. Attualmente abbiamo un livello di 36, però abbiamo raggiunto già un livello di 30, quindi anche in questo caso Sand potrebbe avere scontato il bottom, potrebbe essere. Infine andiamo a chiudere con Binance Coin, sostanzialmente la più performante, addirittura più performante di Bitcoin in questo bear market, prezzo nominale di 270 dollari, capitalizzazione di 43 miliardi, e non potevamo assolutamente escludere una coin, un checks come i BNB. Se andiamo a vedere effettivamente quella che è la sua action, guardate qui, dai massimi che sono stati registrati in data, ve lo dico subito, 12 maggio 2021, con prezzo di 719 dollari, siamo al di sotto di circa un 60%, quindi la coin che sostanzialmente ha tenuto meglio tra quelle esistenti. Quindi anche in questo caso la domanda che ci stiamo ponendo è se Binance Coin ha già registrato il bottom, abbiamo comunque raggiunto un livello di 32,78, per cui ci siamo andati vicinissimi, però in questo caso potremmo vedere, secondo me, nuovamente un dump anche sui 200 dollari. In ogni caso ritengo che Binance Coin tra le coin menzionate è quella che ha tenuto meglio e che probabilmente in futuro avrà una maggiore massadoption, visto che tale ecosistema, soprattutto i checks, andrà a svilupparsi nel corso e futuro. E per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.